Musica Niente crisi per l'imprenditoria cinese. Commercio, pronta moda, ristorazione e bar sono i settori dove spopolano gli imprenditori provenienti dall'impero celeste. Ma nell'ultimo anno c'è stato un vero e proprio boom di negozi di acconciatura ed estetica rilevati dai cinesi. Dai dati della CGA di Mestre, nel 2012 si è superata la soglia delle 62.200 unità, con un più 34,7% rispetto all'inizio della crisi, cioè nel 2008, e più e 6,9% rispetto al 2011. Entrando nello specifico dei settori si registra un picco di crescita tra parrucchieri, estetisti e centri massaggi, più 38,8% tra il 2011 e il 2012. Buona parte di queste attività, soprattutto nel pronto moda, denunciano gli artigiani di Mestre, si sono affermate eludendo gli obblighi fiscali, contributivi e aggirando le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. La stessa cosa sta accadendo nel settore dell'acconciatura e dell'estetica. Dai controlli effettuati dalle forze dell'ordine emergono quasi sempre palesi violazioni delle norme igienico-sanitarie, infrazioni tributarie, amministrative e penali. Elementi che consentono a questi negozi di praticare prezzi bassissimi che stanno mettendo fuori mercato moltissime attività italiane. Nella classifica delle regioni con più aziende guidate da imprenditori cinesi troviamo la Lombardia, seguono la Toscana, il Veneto e l'Emilia-Romagna. Grazie a tutti.